cosa c'è di più violento nel costringerci a fare cose che vogliono altri per di più facendole con la convinzione siamo stati noi a decidere spontaneamente liberamente di fare queste cose ecco questo è quello che accade tutti i giorni a tutti quanti noi ci costringono a fare cose che noi non vogliamo fare non ce ne rendiamo nemmeno conto perché pensiamo di scegliere liberamente questa è la gabbia del ventunesimo secolo la gabbia in cui il potere ci ha messo ecco e questo è riuscito a metterci in questa gabbia grazie alla potenza dell'informazione e della comunicazione di questo parleremo al convegno di milano di questo e molto altro e spero che tutti quanti voi veniate ad ascoltare perché è importante importante capire importante comprendere questo fatto specifico decisivo per noi e per il nostro futuro grazie a tutti Grazie a tutti